Correva l'anno 1171, un anno segnato da guerre, da tradimenti. Un grande impero d'oro e di porpora si estendeva dalle coste dorate e morbide della penisola italica fino agli aspri monti e altopiani dell'Anatolia. Un impero bizantino che ancora doveva trovare la propria identità, guidato da una casata storica toscana. I Canossa. Ah, Canossa. Ciciuli belligeranti, buongiorno e bentornati nella nostra grande avventura con l'impero bizantino, l'impero dei Canossa. Abbiamo un sacco di problemi che dobbiamo sistemare. In primis, in primis, il quinto genito ragazzi, il quinto genito rischia seriamente di ereditare tutti i nostri titoli. Un quinto genito estremamente laido che noi dobbiamo andare a diseredare assolutamente. Lo dobbiamo diseredare. Non possiamo, non possiamo permetterci che vada ad ereditare i nostri territori. Ora, io volevo vedere chi è che andava a questo punto a pigliarsi i nostri titoli di Toscana. Andiamo un attimino sul nostro reame, andiamo a vedere la successione. Noi a questo punto il titolo di re dell'Ellade. Perché c'è il prince Ottaviano Augusto. C'è il prince Ottaviano Augusto. Andiamo a diseredare pure lui. A meno che, a meno che, il titolo di re di Ellas lo consegniamo direttamente al nostro erede. Vabbè, il titolo di re dell'Ellade, per il momento, possiamo lasciarlo anche un attimino giù. Quello che invece a me dà molto fastidio, e ve l'ho anche detto nello scorso episodio, è la questione papale. Questione papale che mi turba terribilmente perché questo disgraziato... Allora, il prince bishopric di Apulia. No, vedete, li controlla direttamente lui. Li controlla direttamente lui. Ah, ecco perché. Perché il papa Mariano, il papa Mariano bastardo... E' in guerra con la Puglia. Ecco perché. Ecco perché. Io potrei fargli... Only bishopric of venossa. Noi questi non possiamo... Non glieli possiamo sistemare. Però noi potremmo tentare uno schema di uccisione del papa. Questo, tra l'altro, è pure cazzuto come papa. Empath. Pure di Lowborn. Potremmo fargli il demand surrender in Vassal War. Ok. Così lui ha finito la sua cavolo di guerra del ciula. Dobbiamo farlo fuori. Questo qui lo dobbiamo far fuori. Perché lui ha venossa, carenzia e trani. Lui ha venossa, carenzia e trani. Eccolo dov'è il disgraziato. Noi non possiamo... Allora, non possiamo convertirlo perché giustamente è capo della fede. Potremmo tentare di ammazzarlo. Il problema è che è basso. È bassa la probabilità. Allora, il discorso papale cercheremo di modificarlo poi. Noi possiamo modificare la nostra Crown Authority. Possiamo passare in High Crown Authority. Che però la cosa ci toglierebbe il Direct Vassal Opinion. Per aumentare il Direct Vassal Opinion noi dovremmo finire queste ricerche e poi dopo switchare su la stewardship. Taxman, Defensive Misur e anche la Popular Opinion ci farebbe comodo. Domestic Affair, Vassal Levy Contribution, Montlit Tyranny, Lease Opinion e Direct Vassal Opinion più 10. Dice ecco, scendere da qui ci permetterebbe di fatto di levarci quel bonus, cioè di levarci quel malus che ci darebbe il cambiare la legge. Nei confronti dei nostri vassalli. Senti un po' a noi qui quanto manca. Noi il Defender of Fate l'abbiamo fatto. Ci mancherebbe giusto il Theologian che poi andiamo a fare e poi sistemiamo questa cosa. Allora, senti un po', senti un po'. Mettiamo pure Play qui. Allora, Infortunio di Caccia. Pratic's Field Surgery. Possiamo rilasciare dei Prigionieri. Vediamo chi abbiamo. Potios di Brindisi. Questi qui non li rilasceremo mai. Allora, la Duchessa Virginia. Questa qui ce la teniamo. Questa qui muore in galera. Non me ne frega niente. Il Bambino Farami possiamo rilasciarlo. Questi qui li teniamo lì. La Duchessa Kale. Questi li lasciamo pure lì. Non mi interessano. Non mi interessano. Allora, Low Control in Countries. Abbiamo Low Control in Bisanzio. Ush. Low Control in Bisanzio. Cosa stiamo facendo noi adesso? In teoria, ecco, Siena. Tosta questa, eh. Tosta, tosta. Allora, iniziamo ad accumulare denari. Iniziamo ad accumulare denari, ragazzi. Adesso abbiamo un'economia che comunque può essere migliorata. 150. Murder and Root. Ok, questo è discreto. Vediamo se qualcuno supp... Nessuno ci supporta. Nessuno ci supporta. Io sto ammazzando questo tizio qui. Il Barone di Carlatt. Che dovrebbe essere... Dov'è che era il Barone di Carlatt? Allora, Fresco dovrebbe ereditare... Fresco dovrebbe ereditare questo titolo. E a noi va bene. A noi va bene. Allora, vediamo un po' Adorbetello se possiamo migliorare qui. Qui manca il Keep. Ma perché, scusami, non mi fa migliorare il Keep qui? Vorrei capire. Concentry Castle Building. Allora, il Concentry Castle Building... Dove essere ricercato di qua. Oddio, Mental Break. Utilizziamo la nostra fede per abbassare lo stress. Vediamo inoltre se possiamo fare... Vediamo inoltre se possiamo fare... Questo cosa ci fa fare? Truly center my mind and clear of truth... Cos'è questa qua? È un... Ok. Stress ridotto. Perfetto. Siamo diventati degli eremiti. Allora, vediamo un po' qua. Sta aumentando, eh. Allora, Commentaries. Allora, noi potremmo guadagnare Focused Monthly Income. Uh, bella. Oh, va a 72. Perfetto. Eh, a noi ci serviva questo. Questo qui a noi serviva tantissimo. A noi serviva tantissimo. Allora, il Prince Fresco si può sposare. Il Prince Fresco si può sposare. Allora, iniziamo a vedere... Questa è la principessa di Danimarca. Contea di Scane. Senti, ma non abbiamo noi... Non abbiamo noi la possibilità di andare a sposare... Ioannikos di Bulgaria. Il re di Vallacchia... Non mi interessa. Vediamo un po' in Georgia invece come sono messi qui. La principessa Takuki di Georgia. Noi dovremmo riuscire ad ammazzare lui. 39. Proviamo ad ammazzarlo. Vedi, su di lui ne possiamo invitare 9. Direi che questo qui è abbastanza odiato. Ok, adesso abbiamo 95, ragazzi. Perché così faccio sposare il nostro primo genito a lui. Almeno faccio sposare il nostro primo genito a lui. Che ci serve. Intanto, allora... Noi possiamo... Questo sta convertendo. Questo sta convertendo. Noi possiamo attaccare qui. Tanto non ci serve il claim. Allora, l'Holy War per il Kingdom non la possiamo fare. L'Holy War per il Ducato. Noi... Noi potremmo fare un Holy War per il Ducato di Lombardia. Che ci starebbe? E andiamo in Holy War per il Ducato di Lombardia. E via! Via, via, via! Holy War per il Ducato di Lombardia. Guardala qua. Ah, vieni qui. E siamo in guerra contro l'Imperatore, mio signore. Siamo in guerra contro l'Imperatore. Ok, facciamogli uno Sway. Facciamogli uno Sway. E via. Ok, migliorato con l'Imperatore... Con il Re Damiano. Migliorato con il Re Damiano. Io direi... Tu... Tu puoi venire qua. Ti devo togliere. Ti devo togliere assolutamente. Quanti uomini ha l'Imperatore? 8.007! Non ha nulla! È messo malissimo! Allora, disbanda... Ce l'abbiamo qui un comandante cazzuto. Comandiamolo noi l'esercito. Intanto, è nata una bambina. Flora va bene, mi piace. Vieni qua. Chi è che è morto qui? È morto lo Spymaster. Allora, vediamo in Spionage... Se possiamo metterci... Direi che il migliore è il Duca Ereterios. Mettiamoci il Duca Ereterios. Via. Vai col Duca Ereterios. Prendiamoci tutti i Claim qua. Tanto, ragazzi, abbiamo una velocità d'assedio con tutti i Mangone. È pazzesca. Murder and Root. Ok, è discreto. Vieni qua sotto. Prendiamogli loro. Ok, avanzare. Questi li abbiamo presi. Perfetto. Vieni a Milano. Allora. Questo qui è per l'omicidio. Messenger pigeons. Ok, perfetto. Dobbiamo ammazzarglieli. Dobbiamo ammazzarglieli. Ok, giù Milano, giù Milano. Giù Milano. Allora. Spuse leaving an impression. No. Assolutamente no. Ok. Gliel'abbiamo ammazzato. Purtroppo, purtroppo. Gray Eminence. Eminenza grigia. Più 8 di Diplomacy. Wow. Wow. Allora. Allora. Aspetta un attimo. C'è una fazione contro di noi. Questo per il military power. Ci potrebbe essere una ribellione pazzesca. Ci potrebbe essere una ribellione pazzesca. Allora. Qui potremmo farla... Qui potremmo farla sposare. Allora. Potremmo far sposare Damiano. Con la duchessa. Ok. E con lei siamo alleati adesso. Allora. Questo tizio qui non riusciamo a sistemarlo. Barbara di Gallura. Questi... Questi mi preoccupano un po' meno. Più che altro sono questi qui. Più che altro sono questi qui. Ok. Aia. Aia. Intanto. Nostro figlio può sposarsi adesso. Allora. È sposato con questa. Ma chi è questa? Ma lei chi è? Conte Ellas di Rasca. Conte Ellas di Rasca. Senti un po'. Ma aspetta un attimo. Perché noi qui... Chi è che abbiamo ammazzato? Scusami. King Uv di Georgia. Ok. Si è. Perfetto. Il principe di Georgia. Il prince fresco. Perfetto. Si è sposato con lei. Si è sposato con lei. Quindi in teoria quando schiatta lui dovremmo avere sul trono uno della nostra famiglia. Vieni qua. Vieni qua. Continuiamo ad assediarli qui. Allora. Available perk. Ci prendiamo il teologo. E adesso andiamo a spostare il nostro focus sul duty focus. Così andiamo a farci l'amministratore. Così andiamo a farci l'amministratore. E' la baronia di Gallarate. E' la città del Dick mio signore. E' la città del Dick. Vieni qua. Vediamo se li prendiamo. Vediamo se li prendiamo. Vediamo se li prendiamo. Corrono come dei dannati questi. Questi corrono come dei dannati. Qui non scappate più. C'è l'imperatore. C'è l'imperatore dentro qui. C'è l'imperatore. Hanno il bonus della... Bing Woodnets. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questioni religiose lì. Ok. Andiamo a prendergli l'imperatore. Anzi no. Vai qua. Vai qua a prendergli Como. Vai qua a prendergli Como. Vai qui a prendergli Como. E' entrato qualcuno in guerra con loro? Assolutamente no. Assolutamente no. L'imperatore è solo. L'imperatore è solo. Ok. Buttiamogliela giù. Perfetto. Vieni qua. Prendiamogli anche l'ultima. Prendiamogli anche l'ultima. E via andare. E via andare. Perfetto. 61%. Vieni qui a Novara. Guarda qua. Guarda qua l'imperatore che ha tortona. Vai che ti prendo. Vai che ti prendo. Vai che ti prendo. Ditemi che lo catturiamo adesso. Perfetto. Catturato l'imperatore. Ottimo. 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 Allora. Adesso abbiamo preso anche la lombocera. Lombardia. Disbandiamo i nostri eserciti. Dobbiamo recuperare velocemente il denaro. Dobbiamo recuperare velocemente il denaro. Allora. Allora. Il conte di Brescia. Il conte di Oniso. Che è un canossa. Tra l'altro. Che è un canossa. Potrebbe diventare duca di Lombardia. Potrebbe diventare duca di Lombardia. C'ha il figlio di Oniso di Canossa. Allora. Questo titolo qui. Allora. Ci servono. 250 per usurparlo. E poi glielo assegniamo. E poi glielo assegniamo a lui. Allora. Il caro Igino. Cioè il Dioniso. Scusami. Io direi. Grand Titles. Gli possiamo dare. Vediamo un po'. Allora. Trento. Pavia. Como. Cremona. Contea di Lombardia. Contea di Tortona. Perfetto. Perfetto. Voilà. Non lo facciamo conte. Cioè non lo facciamo duca. Perfetto. E noi ci stiamo espandendo anche di qui. Allora. Dangerous Faction. Chi è? E sono sempre questi. Sono sempre questi. Sto King Damiano. Se lo imprigiono mi dà tirannia. Il re Damiano di Bulgaria è pericoloso. Il re Damiano di Bulgaria è molto pericoloso. Noi dobbiamo fare per forza così. Noi dobbiamo fare per forza così. Dobbiamo migliorare il nostro debito. Dobbiamo migliorare il nostro debito. Adesso andiamo sul consiglio. Questo sta facendo. No fammi Support Scheme. Perfetto. Tu mi stai facendo il Promote Culture. Tu qui. Tu vai. A convertire. Ok. Ok. Vai a convertire di lì. Vai a convertire di lì. Allora è scoppiata nuovamente. È scoppiata nuovamente una ribellione qua. Venite qui. Veloce ad Arezzo. Veloce ad Arezzo. Veloce ad Arezzo. Veloce ad Arezzo. Veloce veloce veloce. Ti prego ti prego. Arriva ci 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 arriva ci. Sì. Ok. vieni a Firenze anzi no vieni qua ok vai su a Firenze ok capo è diventata italiana bene 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 questo l'abbiamo fatto io direi tu puoi essere congedato qui col pugnetto e qui sta salendo qui sta decisamente salendo il conte Dioniso di Brescia ma per quale motivo dovrebbe cioè abbiamo l'opinione altissima ma perché si dovrebbero ribellare scusami non capisco non capisco perché si dovrebbero ribellare ok sono spuntati fuori di qua 6.8004 venite qui venite qui venite qui venite qui allora dai venite qui anche voi su voi spostatevi voi attaccate qua perfetto ok via allora vediamo un po stewardship lifestyle experience è questa qui ci potrebbe anche stare ok allora tu facciamo la pace qua perfetto disbandiamo tutte le armate perfetto allora adesso abbiamo dei denari adesso abbiamo dei denari ah possiamo metterci un guardiano facciamolo noi facciamolo noi questo direi che non è il momento questo direi che non è il momento di farlo re di bulgaria è molto potente ragazzi il re di bulgaria è molto potente aghiros burgas allora vediamo un po' qui che cosa possiamo fare possiamo aumentare il controllo e dobbiamo aumentarlo a bisanzio che a bisanzio non è al massimo il controllo questo ci costa un boato di roba ci costa un boato di roba continuiamo a promuovere la nostra cultura qui continuiamo a promuovere la nostra cultura via allora vai label perks meritocracy via dobbiamo lasciare a manetta giù di lì far from home ma io non voglio diventare ma chi è sta gente qua ma vai via ma pensa te se mi prendo se mi prendo a corte delle persone così strane pure di un'altra fede cioè illegale ragazzi è il marif è il marif mio signore questo sta convertendo adesso mettiamoci su disrupt scheme phillis no io devo tenermi il duca ilandro no imprigioniamo phillis adesso abbiamo soldi ma adesso abbiamo anche soldi vediamo dove possiamo costruire costantinopoli ha finito qui la costruzione il livello 4 che cosa ci dà ci abbassa dello 0.8 questo qui invece passa da 1.6 a 2 al mese ok andiamo sull'economico ragazzi andiamo sull'economico salt in the wound prince sebastiano callus eh diventa diventa callus cioè a me non non mi interessa tanto sei un figlio inetto sei un figlio inetto chi è morto qua intanto nel nostro consiglio il marshal allora noi potremmo assegnare potremmo assegnare come marshal direi che lei la duchessa maria di palestina è forte è forte mettiamoci la duchessa maria di palestina che è anche tosta e potente come cancelliere abbiamo il duca ivan che per il momento non è poi così male ne potremmo metterci il prince actor mettiamoci il prince actor come cancelliere che almeno che almeno si prende un po' di di abilità a proposito a proposito il prince actor lui si è sposato la contessa lui si è sposato la contessa ma questa qui è katara noi potremmo ammazzargli la moglie noi potremmo ammazzargli la moglie fa schifo sta moglie sta moglie fa schifo allora naleb e olimpia ok 95% dobbiamo ammazzare lei allora sway the god king the good king qui andiamo in sway possiamo invitarne altri due ma a che scopo a che scopo tanto abbiamo già il 95% dobbiamo far fuori la moglie di nostro figlio perché fa schifo mio signore questa gida qui è proprio una suina lui è molto buono lui è molto buono alternative reading vai 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 paolino allora firenze è sempre sto keep scusami ma perché non ce lo fa upgradare questo ma perché non ce li fa upgradare non capisco vedi che qui non ci fa upgradare nulla perché ma dice che manca quel keep lì ma non so mica dove andare a ricercarlo quel keep lì voi sapete aiutarmi da quel punto di vista ragazzi ahia ahia perdiamo soldi perdiamo soldi fa niente devo abbassare lo stress il nostro sovrano è perennemente stressato ragazzi noi invece dobbiamo andare noi dobbiamo andare anche a vedere qua sotto allora questo è duca del delta perfetto se l'è creato lui il titolo ok lui si è creato il titolo di duca di lombardia dovrebbe anche essere bello felice dovrebbe essere anche bello felice in teoria noi intanto qui in Sicilia in Sicilia potremmo creargli il titolo di Rex Sicilie ci costerebbe 400 duca di Sicilia ma potrei fargli direttamente il Rex Sicilie in realtà vediamo più che altro perché voglio fare New Acquisition ok abbiamo ottenuto delle conoscenze incredibili intanto allora noi possiamo anche chi è questa la baronessa di Nicomedeia perché perdiamo ma queste qui sono guerre del ciula Children Lux Guardian Aurelia e Caracossa vabbè ma lasciarle lì queste qui non mi interessa non mi interessa quello che mi interessa a me è capire possiamo fare una Oli War per il Ducato del Piemonte possiamo fare una Oli War per il Piemonte io gli mando direttamente le Loc al tanto dovrebbero essere sufficienti queste dovrebbero essere sufficienti non è un gran Ducato questo qui lui c'ha pure pochi uomini vai 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 e qui si continua allora abbiamo abbiamo ucciso la Contessa Egilda chi è la Contessa Egilda chi è la Contessa Egilda qui abbiamo ammazzato talmente tanta gente ragazzi che non sappiamo non era la moglie di nostro figlio per caso sì 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 allora vediamo se troviamo una moglie Genius queste hanno 41 anni allora diamo Intelligent sì li abbiamo allora giusta calma e shy questa è ghiotta e Agnes non è mica male però è ungherese questa qui italiana Margherita italiana anche lei io la vorrei a parte che possiamo fargli il change culture in realtà potremmo fargli il change culture questa phillis non è mica male 9 19 8 greca ortodossa non possiamo fargli il change culture allora devo prendermi questa italiana che ha anche 20 in learning prendiamo questa qua oddio è nato un altro bambino metridate secondo ok adesso in teoria noi dovremmo aver sposato il nostro erede che è il princector no scusami si con lei perfetto con lei ottimo 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 adesso abbiamo abbiamo una moglie per il nostro erede intelligente dai che voglio chiudere qui Torino ma che la nostra reconquista dell'italia sta migliorando perfetto noi abbiamo il 100% enforce demence e via e via noi potremmo creare il titolo di re d'italia e tenercelo noi potremmo creare il titolo di re d'italia e tenercelo ai partition e il principe mitridate principe mitridate dobbiamo diseredarlo dobbiamo diseredare il principe mitridate scusami scusami ma questo qui disereditiamo disereditiamo il principe mitridate il cesare ottaviano augusto e anche il delta madonna questa c'ha 65 anni questa qui c'ha 65 anni che schifo ragazzi mamma mia lui ne ha ne ha praticamente 16 è una gilf è una gilf above the main limit noi dobbiamo dar via dobbiamo dar via questo ducato noi dobbiamo dar via questo ducato e a chi lo diamo questo è già conte di queste di queste cose qui questo è già conte di queste cose qui noi potremmo agapito di canosa a lui gli potremmo dare questa roba qua gli potremmo dare la contea del monferrato e la contea di torino perfetto così aggrapito si è preso sta roba qua questi hanno subito messo al mondo un figlio abbiamo un nipote a proposito a proposito a proposito a proposito com'è nostro nipote non si sa offriamogli offriamogli la guardianship gli convertiamo anche la fede gli convertiamo anche la fede perfetto allora allora ragazzuoli la nostra opera di riunificazione dell'italia procede anche abbastanza bene procede anche abbastanza bene la domanda che vi is not swayed il kingdomiano oh mio dio raga il bulgaro è una cosa allucinante il bulgaro è una cosa allucinante pazzesco pazzesco una cosa oscena dicevo la domanda che vi volevo fare è come faccio io a capire qual è il problema oh ma il papa è andato via noi questa ce l'abbiamo primary air e la puglia oh il papa è andato fuori dalle palle quindi scusami in realtà possiamo cambiare possiamo cambiare qua possiamo anche andare in alta partizione allora finalmente abbiamo eliminato il papato abbiamo eliminato il papato si è eliminato per i fatti suoi perché non c'è più probabilmente gli abbiamo fatto perdere quella guerra contro contro la castiglia probabilmente e quindi possiamo cambiare anche le leggi di successione questa è una cosa estremamente interessante per noi questa è una cosa estremamente interessante per noi soprattutto perché noi potremmo andare in equal potremmo andare in equal anche se in realtà in equal poi dopo avremo anche il problema delle donne da sistemare noi abbiamo tante figlie dunque 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 come faccio io a capire qual è la ricerca che ci manca del keep perché come potete ben vedere noi qui non possiamo più costruire perché dice che keep building or it's upgrade e io non riesco a capire che cos'è il keep o dungeon vedete se io vado a vedere qui sulle ricerche non riesco a capire il castle bay list dovrebbe essere pronto tra poco high medieval era military building questo invece cosa ci dà le fortification building così quanto quanto me lo dà 11 mesi facciamo così che in 11 mesi sono pronti i castle bay list e almeno vediamo se è questo perché alla fine dei precedenti noi abbiamo tutto dei precedenti noi abbiamo tutto qua è di questa di questa era qui che non abbiamo che non abbiamo nulla l'ordings sarà questo qui speriamo spero vivamente che sia questo o forse l'urbanization cosa ci dà l'urbanization questo è per il dev allora vai a fare l'ordings io ragazzuoli vi ringrazio della compagnia come sempre il vostro apporto nei commenti è più prezioso che mai perché come ben sapete questa è la prima volta che io gioco a crusader kings è venuta fuori una gran bella campagna anche grazie ai vostri consigli a quelli di shogun il laido shogun spero vivamente che torni ad aiutarmi shogun dove sei vieni che ho bisogno e per quanto riguarda i nostri obiettivi nelle prossime nelle prossime puntate sono i seguenti allora innanzitutto riunificare i nostri territori quindi l'espansione andrà ovviamente ai danni dell'holy roman empire in quest'area e cercheremo ma don chirali questi qui ce li hanno presi loro ma va che infami ma guarda che infami che ci hanno tirato via dei territori qua dobbiamo unire l'impero bizantino al veneto quindi tutto ciò che c'è qua in mezzo dovrà passare in un modo o nell'altro sotto il nostro dominio per quanto riguarda invece l'impero romano vediamo che cosa ci manca ci manca seawide tunisi la croazia quindi la croazia dobbiamo prenderla e venezia più ovviamente 5000 di di prestigio ma il prestigio comunque se non dobbiamo fare guerre o robe del genere lo tiriamo su anche abbastanza abbastanza velocemente ci sono anche un sacco di eventi che ci danno sempre una mano in quello siamo vicini siamo molto vicini alla formazione dell'impero romano quindi direi siawide quindi i titoli o la provincia no probabilmente la provincia tunisi potremmo anche pensare di andare verso l'ungheria allora diventa inevitabile la guerra con l'ungheria una guerra con l'ungheria diventa inevitabile perché possiedono territori in croazia possiedono territori a tunisi quindi per cui questo king ranislav dovrà essere purgato detto questo se volete sostenere il canale lasciateci un like se volete consigliare il vostro imperatore bizantino canossiano lasciatemi dei commenti dei quali mi indicate la via e noi ci vediamo nel prossimo episodio domani alle ore 14 ciao ragazzi buonanotte grazie a tutti